Buongiorno a tutti e ben ritrovati, cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino che si apre con i giornali, la nostra edicola virtuale con i due quotidiani, sono due, lo ricordo per i più distratti il messaggero non è più in edicola con l'edizione di Pesaro ma è in edicola abbinato al Corriere Adriatico con la versione, diciamo quella nazionale dove troverete le notizie dall'Italia e da tutto il mondo con il nuovo Corriere Adriatico che vi abbiamo presentato anche ieri ed è un Corriere Adriatico tutto rinnovato anche nel formato oltre che nella grafica, lo vedremo tra poco nel test screen adesso invece andiamo a vedere il calendario, quello non cambia mai, è sempre lì perenne nei secoli dei secoli e oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Villibaldo, il sole è sorto alle 5.33 e tramonterà alle 20.53 minuti vediamo il tempo, il tempo anzi non lo vediamo perché c'è un problema nella connessione un problema nella connessione internet e quindi non riusciamo a darvi le pagine con la grafica della protezione civile quindi con le previsioni del tempo andiamo allora subito sui quotidiani e cominciamo a leggere appunto il Corriere Adriatico la pagina di Fano, parte la diffida legale Seri, il sindaco la stoppa Aset Holding minaccia e quindi fa partire questa diffida nei confronti di Santorelli e Del Vecchio che rappresentano Santorelli, Progetto Fano e Del Vecchio, Ludici intimando a questi due consiglieri comunali di rivelare, pensate, è tutta qui la stranezza le fonti delle notizie, ok? Seri però che il sindaco difende Santorelli e Del Vecchio firma un atto di sfiducia al consiglio di amministrazione di Aset Holding e bolla tutta questa vicenda assurda come legittima critica politica e ci mancherebbe, il comune proprietario dell'azienda ha ordinato dunque il ritiro di questa iniziativa la fotografia che pubblica questa mattina il Corriere Adriatico è proprio quella di Teodosio Auspici lo vedete in questa immagine, poi Susanna Testa e Gianluca Cespuglio di Aset Holding atto irrituale della società che denota il forte conflitto sul piano di incorporazione poi sempre in tema di Aset per rifiuti acqua le tariffe sono più salate le rimostranze della giunta degli operatori turistici sui servizi pubblici locali e questa è la pagina di Fano del Corriere Adriatico l'altra pagina, Azimut Benetti, nessuna apertura sindacati insoddisfatti dell'incontro di ieri mediato dalla giunta confermato il progetto di dismissione se richiede l'apertura di un tavolo al ministero ma l'amministratore vuole gli ammortizzatori sociali oggi assemblea per gli 88 lavoratori e prosegue lo sciopero di un'ora tutti i giorni anche qui la fotografia con la manifestazione di ieri dei lavoratori di Azimut Benetti partita dall'arco d'Augusto l'addio a Gianni Ambrosini domani nella sua Calcinelli il funerale alle 9.30 nella chiesa Santa Croce ieri c'è stata l'autopsia, non c'è stato nessun malore quindi è caduto ed è caduto e adesso qui bisognerà capire il perché, come è successo il funerale intanto dicevo è stato fissato per domani mattina nella parrocchia Santa Croce di Calcinelli dove l'uomo viveva prima di trasferirsi a punte degli alberi a Monte Felcino insieme alla sua famiglia alle 9 del mattino la salma partirà dall'obitorio dell'ospedale di Fanno alla volta di Calcinelli dove alle 9.30 si terrà la cerimonia funebre armonia e suoni celesti Rossini, l'orchestra sinfonica incontra Vitruvio ci sono tre appuntamenti del quale si parla in questo articolo in tre luoghi suggestivi con l'orchestra appunto sinfonica il primo è domani alle ore 21 nella chiesa di San Francesco e si potranno ascoltare dai grandi classici come Bach fino alla colonna sonora di Star Wars e questa è la fotografia della presentazione di questo ciclo di concerti l'altra pagina di Fanno del Corriere Adriatico tratta invece gli investimenti all'aeroporto di Fanno investimenti inopportuni a favore di pochi appassionati sull'aeroporto le critiche storiche quelle dei 5 Stelle confermate dal dirigente del comune Celani e dunque per il gruppo di opposizione è sbagliato consegnare tutti gli immobili all'Enac e poi c'è la notizia che è stato demolito il distributore di benzina in Viale Gramsci il comune è intenzionato ad allestire un giardino andiamo adesso sulla pagina di Valle del Cesano la pagina di Valle del Cesano da Pergola per i liceali esperienze di lavoro in comune firmata la convenzione con il Torelli ragazzi impegnati in vari settori il preside ha ringraziato il professor Regini per l'impegno e la disponibilità del sindaco vedete il preside Samuele Giombi e il sindaco del comune di Pergola Francesco Baldelli e poi c'è un video, un video su Mondolfo che è tra i primi 10 in Italia Santa Giustina brilla nel concorso della conferenza episcopale italiana sotto il curatore di questa iniziativa della parrocchia Emanuele Renzi l'altra pagina del Corriere da San Lorenzo in campo da Tiberini alle nuove tendenze i talenti del paese e della musica nella memoria del tenore rafforzata alla politica dei gemellaggi con il coro Giubilate e poi sotto da Mondavio note, cultura e folklore pacchetto per i turisti e adesso invece andiamo sulla pagina di Pesaro e Provincia si parla del casello autostradale di Santa Veneranda del progetto di costruire questo casello autostradale e i residenti si mobilitano per questo casello light leggero, modificato il comitato del no si prepara il terreno per l'ospedale unico a Muraglia il quartiere avrà finalmente un parco pubblico grazie alla curia e poi sempre sulla pagina di Pesaro e Provincia la fotografia qualcuno la ricorderà è stata fatta adesso una colletta per far rientrare la salma di questo clochard un clochard buono che stava sempre ad un semaforo a Pesaro sentivo ieri alcuni discorsi in un bar proprio del capoluogo provinciale dove insomma molti dicevano ah si è morto poverino era tanto bravo ecco viveva in questo in una macchina una vecchia Ford è stato stroncato da un malore adesso come accade purtroppo post vita quando arriva la morte ci si commuove sempre però poi si rimane indifferenti finché uno si è in vita vive dentro una macchina poi quando muore sono tutti bravi sono tutti buoni e ci si commuove sempre però questa è una storia che si ripete tutte le volte donna picchiata a sangue davanti al figlio di 4 anni siamo nel comune di Vallefoglia l'incubo è terminato ieri mattina con la fuga da casa e la denuncia ai carabinieri della donna il cellulare smarrito ha scatenato la furia cieca del compagno minaccia la famiglia e adesso è caccia all'uomo attacco informatico con falsa mail di Equitalia un'organizzazione ruba i dati sensibili per estorcere denaro di questo ce ne siamo occupati anche qualche mese fa e anche la provincia di Piesa Urbino è stata più volte attaccata da questi hacker che sono dell'est la gloriosa biblioteca siamo sempre ancora sul Corriere Adriatico poi chiudiamo la gloriosa biblioteca Passionei spina nel fianco per Fossombrone un tempo vanto culturale ora è abbandonata un patrimonio da non disperdere il trasferimento della biblioteca Passionei cinque anni fa con vedete nella fotografia l'ex sindaco Maurizio Pelagaggio il progetto prevedeva riamodernamenti ma è stato bloccato dal patto di stabilità e adesso invece apriamo il resto del Carlino la pagina principale è sul porto fai da te perché? perché 700 imbarcazioni sono ormeggiate lungo il fiume Foglia il comitato dice lottiamo contro ghiaia e nutrie meritiamo dunque considerazione e questa è la foto grande poi all'interno lo vedremo tra un istante si parla di infiltrazioni mafiose evidenti e grandi inchieste gestite male e allora andiamo a vedere chi è che dice queste parole di chi sono queste parole sono niente meno che del procuratore generale della Corte d'Appello delle Marche Vincenzo Macri che ha 72 anni e da 6 è in servizio in questa regione ha conosciuto mafia andrangheta camorra ma non si aspettava dice in questa intervista che porta la firma di Andrea Massaro non si aspettava di trovarsene anche qui nella regione Marche nel silenzio generale e poi sempre il procuratore dice la massoneria è diventata il collante per fare gli affari e la criminalità si diffonde con la droga e il riciclaggio Vincenzo Macri non si capisce perché per l'inchiesta Banca Marche non siano state decise misure cautelari nessuno dunque sia finito in carcere una intervista tutta da leggere a pagina 3 sul resto del Carlino di questa mattina la pagina di Fano invece è sulle 80 famiglie 88 famiglie che vivono davvero momenti difficili per l'occupazione per il lavoro e dunque per il reddito ieri in manifestazione davanti al comune di Fano c'è stata delusione per questo incontro di tre ore un confronto tra l'azienda i sindacati la mediazione del sindaco le posizioni purtroppo ancora sono molto lontane e dunque è difficile trovare una intesa una soluzione Francesco D'Antonio della Will il sindacato dice la proprietà ha ribadito l'intento di cedere il ramo d'azienda alla carboline o carboline ora tutto questo non è accettabile e la diffida invece per quanto riguarda la vicenda ASET la diffida alla consiglia di amministrazione della holding scatena i partiti e l'altra pagina invece adesso del resto del carino la cronaca da Fano nessun malore prima della caduta da quella gruda quei 20 metri la morte di Ambrosini un operaio di 44 anni ieri c'è stata l'autopsia l'ipotesi è esclusa dai periti appunto dopo l'esame autoptico qui c'è un refuso oggi è funerale in realtà è domani il funerale domani mattina alle 9.30 nella chiesa di Santa Croce di Calcinelli l'operaio di 44 anni morto lunedì mattina cadendo da una gru che stava smontando a pochi metri dalla basilica di San Paterniano a Fano poi c'è il racconto la denuncia di Luigi Ambrogiani questo signore che tiene questo documento dell'ospedale riuniti Marche Nord in mano mia madre dimessa con la broncopolmonite la denuncia appunto di Ambrogiani era ricoverata in ospedale la nonnina è stata visitata e poi rimandata a casa da piccola festa a grande evento in migliaia per la crescia matta gli appuntamenti alla cooperativa Tre Ponti da domani alle 21 di scena all'orchestra e la prossima settimana due tappe all'arena BCC e ancora la moria di hotel in tutta la città soprattutto nella zona del mare a Lido e la Sassonia scompaiono posti letto abbattuto anche l'albergo Aldo e chiude l'albergo Roma è andato giù in Sassonia il vecchio e superato hotel Aldo chiuso ormai da qualche anno che aveva 17 camere e 25 posti letto al suo posto un moderno condominio con abitazioni e esercizi commerciali poi però come si diceva chiude anche il Roma che si trova invece in Sassonia e in questo articolo già potete vedere una serie di numeri numeri che danno il senso di quella che è l'accoglienza le strutture ricettive l'accoglienza qui nella nostra città che ha una vocazione turistica ma che non convince più di tanto purtroppo non ci sono i numeri Museo del Bali invece Saltara si rifà il look con questa nuova veste con tante sorprese per questa struttura nella foto il Carlino pubblica il presidente del museo Alighiero Miccioli davanti a questa struttura molto bella museale che si trova a Saltara l'inaugurazione al pubblico è fissata per sabato 16 luglio ma già il 14 si terrà un'anteprima per la stampa e gli addetti lavori un'anteprima che si intitola Educational Day Nuovo Museo 2.0 un appuntamento che prenderà il via alle 18 con una visita guidata per scoprire appunto tutti questi nuovi locali poi sulla pagina di Fano Valle del Cesano da Pergola recupero dei lungodegenti parliamo di sanità è pronto il nuovo percorso sarà inaugurato nei prossimi giorni in ospedale ed è stato progettato per favorire la riabilitazione direi che possiamo fermarci qui con la nostra rassegna stampa del mattino come sempre grazie a tutti voi per averci seguito l'augurio è di una buona giornata arrivederci Grazie a tutti